La School of Excellence è stata un'esperienza molto stimolante perché mi ha permesso di approfondire un tema molto attuale come quello dell'uguaglianza e dell'inuguaglianza, che in ambito non solo sanitario, come mi sarei aspettata, in quanto è l'ambito di maggiore interesse per me come studentessa di infermieristica, ma soprattutto in maniera globale e in ambito quindi economico e sociale, degli ambiti che non mi sono così propri. Sicuramente la School of Excellence si è rivelata essere un'occasione per affrontare alcune tematiche che molto spesso nella rigidità dei programmi accademici non trovano spazio. Affrontare il tema in inglese di sicuro è arricchente perché permette di sfruttare una conoscenza che per alcuni potrebbe essere un po' non praticata giornalmente e soprattutto avere dei docenti che provengono da differenti paesi ha permesso una visione ancora più globale di quello che potrebbe essere questo tema. Però forse il tratto più significativo di questa School è la pluralità delle prospettive che sono state intavolate per affrontare questi temi. Se dovessi definire con una parola la School of Excellence credo che utilizzerei la parola pluralità perché i contributi che sono arrivati dalle diverse persone che per l'appunto hanno un background di esperienze molto diverse è stato poi l'elemento fondamentale di questo percorso e del dibattito che in questo percorso ha stimolato. School of Excellence per me è condivisione, to share, condivisione di opinioni, conoscenze per approfondire, ampliare il proprio bagaglio culturale. Grazie a tutti!